il posto mio beh ma che si aspetta non era pronto momento la giacca era ora ma non c'è la domestica ne abbiamo presa una a mezzo servizio questa dorme a casa sua si grazie troppo tardi senti perché non ci metti delle sottocoppe di peltro è vero quando non si mette la sottocoppa e poi sono anche pratiche si mettono sotto i bici per carità guardi che in questa casa non si può parlare di sottocoppe di peltro è vero architetto chirurgo tagliati lo sformato sennò poi dici che è freddo ah perché questo sarebbe uno sformato si signore beh no quello che è giusto è giusto l'architetto ha ragione è sformato è sformato è più sformato di così sembra un aborto caro amico in questa casa non si bada la forma ma la sostanza eh no non parliamo di sostanza vero? due chili e mezzo in meno di che? di bambine appena arrivato sono andato in bagno e le ho pesate e anche tu sai Donatella sei sciupata come sciupata? sembra un vecchio di cinque anni ma come? non prendi aria non fai dello sforzo non monti a cavallo monta monta diglielo diglielo ogni quindici giorni è come non montare affatto anzi dai eh certo neanche il tempo per il maneggio monta diglielo anche le bambine sono stentarelle fallidine ma signora non le porta a sciare ma cosa dice anche lei? sci cavalli mare sotto coppe di peltro ma chi se li ricorda più? qui un paio di scarpe per andare a scuola già diventano un problema io faccio miracoli ma non basta mai mai ma amore chippa lippa ma io non tu io cosa? ma io faccio l'impossibile di che cosa mi accusi? di non essere più quel personaggio straordinario che eri al telefono eh per forza il telefono eravamo ecco e poi che hai fatto il passo più lungo della gamba smettila che cosa sono queste scene a tavola? e adesso svetta vai in baglio a lavarti la faccia e torna solo quando ti sei calmata avanti marci e tu? come le permetti di trattarti in questo modo? davanti agli occhi davanti a te palippa davanti alle bambine palippa a proposito di bambine che cosa fate voi ancora alzate a quest'ora? ha letto subito uno due uno due marci sì papi ciao papi buona notte papi ma dico ma che famiglia è questa? ma che razza di capofamiglia sei tu? beh una mia tutta i soldi però eh papi io ti spacco la testa papi mettila giù coltello 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 un tagliare da pesce c'era anche il pesce ehi sorgela truffatore mi hai rifilato una pazza isterica una necalomale l'hai conosciuta dallo psichiatra? che volevi che fosse? e che cosa vuoi da me? lasciatemi via è finito ora sfogati tu 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 a fare così ci palippa dategli un po' d'acqua via no ok